Se gli occhiali da vista con le lenti correttive sono un'invenzione del XIII secolo, invece gli occhiali da sole sono un'invenzione moderna del XX secolo. E' un'invenzione italiana, è l'azienda di Giuseppe Ratti, un'azienda torinese che già nel 1917 inizia a sperimentare per trovare delle lenti che servano all'aria aperta per oscurare dal sole, specialmente dedicate al settore dell'aviazione da una parte, infatti un grande cliente, Sara Gabriele D'Annunzio, e dall'altra parte al settore dello sport che inizia a essere praticato all'aria aperta, specialmente il ciclismo da una parte e dall'altra gli sport di montagna, quindi l'alpinismo e lo sci. Nel 1927 e poi nel 1937 questa sperimentazione porta al risultato del brevetto di una lente giallo-brunata con un cristallo colorato in massa e poi nel 1937 appunto ha delle asticelle confortevoli che abbiano uno snodo particolare dietro alle orecchie con il brevetto meflecto. Ed è nel 1938, con questa invenzione, che nascono gli occhiali Persol, per sole, che hanno queste caratteristiche principali, appunto, dicevo, al di là delle aste riconoscibili e particolarmente confortevoli, hanno questo snodo sul ponticello, anch'esso brevettato, è il Victorflex, e il colore giallo-brunato delle lenti e poi il segno riconoscibile sulle cerniere delle ali che riprendono proprio quelle dell'aviazione, una freccia metallica. L'occhiale è inizialmente appunto usato nel mondo dello sport e dell'aviazione, un occhiale militare proprio come i Ray Banavietor dello stesso anno del 1938 e poi passa a essere invece l'occhiale del cinema. Quindi grandi attori da Steve McQueen nella grande fuga del 1963 per poi arrivare a Mastroianni in divorzio all'italiana. Grazie. Grazie.